L'odevole è l'iniziativa di intitolare la strada statale 640 la strada degli scrittori, ma per la città di Caltanissetta tutto questo è una vera e propria beffa, dato che di fatto è tagliata fuori da tale iniziativa. Sono parole queste del consigliere comunale Salvatore Licata, che si scaglia contro la decisione di qualche giorno addietro da parte dei vertici dell'ANAS di cambiare nome alla 640 in onore a quell'itinerario che ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli scrittori siciliani. Tutto ciò è una provocazione per la città, continua Licata, solo con una serie opera infrastrutturale di collegamento tra la 640 e la zona est della città. Potremmo parlare di un progetto di valenza turistica ed economica, del quale anche Caltanissetta sia concretamente protagonista. Eliminare quest'opera sia un danno per una città, è una provocazione quando si parla di valorizzazione turistica ed economica della città. L'ANAS, in un recente incontro, ha detto che i vari svincoli verranno intitolati agli scrittori. Per esempio, per Racalmuto lo svincolo verrà chiamato svincolo sciaccia. E per Caltanissetta, se lo svincolo manca, come vorremmo valorizzare l'aspetto turistico, la storia letteraria della città? Voglio ricordare che quella strada, la strada di cui parlo, che appunto collegherebbe la 640 a Santo Spirito, porterebbe gli avventori, gli stessi cittadini nisseni, a raggiungere il centro storico attraverso la via Xiboli in pochissimi minuti. Tra l'altro verrebbe valorizzata una zona, che è appunto quella in cui insiste la via Xiboli, e il villaggio Santa Barbara, che sono zone ahimè dimenticate, ahimè isolate nell'ambito della città di Caltanissetta. Tra l'altro quella strada andrebbe a valorizzare il museo archeologico, la stessa abbazia di Santo Spirito, piuttosto che per esempio l'abbadia, che in passato è stato chiamato parco letterario proprio di Regalpetra, pensando, rievocando appunto un'opera di Leonardo Sciaccia. Dico, le opere di compensazione si sono ridotte a una somma complessiva di 4 milioni e 500 mila euro. Ho qualche dubbio che si possano realizzare le opere che sono state inserite nei tavoli compensativi.